Bene ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ci troviamo qui con un altro prodotto, si tratta di Samsung Gear 2 Neo. Prodotto della Samsung, appena preso, smartwatch uscito insieme a Samsung Galaxy S5. Facciamo questo velocissimo unboxing, vediamo cosa c'è dentro la scatola. Innanzitutto, subito qua possiamo notare il nostro smartwatch, se riusciamo ad aprire. Quindi abbiamo lo smartwatch che è così esteticamente migliorato rispetto al Gear 1, in quanto innanzitutto abbiamo il cinturino che è molto meno spesso, cosa che sul Gear 2 era veramente scomodo, e anche il prodotto effettivamente molto più elegante e più sottile. Non abbiamo più il tasto sul fianco, ma abbiamo il tasto centrale, e qua in alto avremo invece il sensore tra rossi per usarlo come telecomando della televisione. Cosa cambia tra il Gear 2, questo è il Gear 2 Neo, dal Gear 2 cambia il fatto che il Gear 2 ha i profili qua in alluminio e non in plastica, e dal fatto che il Gear 2 abbia una fotocamera sul retro che gira video in 720p. Io ho deciso di prendere questo perché costa 199 euro al posto di 299 euro che costa invece il Gear 2. Come funzioni sono le stesse, ripeto. Cosa c'è dentro la scatola? Abbiamo la clipettina per la ricarica che finalmente si attacca allo smartwatch e verrà poi ricaricata tramite il cavo, che è un cavo micro USB. Sembra all'interno della scatola, invece troviamo le istruzioncine dello smartwatch e nient'altro. Quindi questo è quello che troveremo all'interno della scatola. A presto, adesso lo sto usando insieme al Galaxy S5, quando farò una recensione del Galaxy S5 troverete anche la recensione di questo prodotto che così esteticamente e di primo impatto mi sta piacendo molto e rispetto al Gear 1 sono stati fatti passi da gigante. Bene, a presto con la recensione completa dove daremo tutte le caratteristiche effettive di questo smartwatch e faremo un riepilogo del mio utilizzo. Bene ragazzi, ciao a tutti da Daniele.